è stata una forma di omaggio secondo me questa frase a Silvio Berlusconi perché in questo momento già da un po' di tempo non era la figura di Berlusconi che teneva tutta unita la maggioranza era il successo elettorale di Giorgio Meloni quindi diciamo è una forma sì forse di omaggio l'anziano leader scomparso ma non non corrisponde alla realtà però io volevo aggiungere qualcosa sul tema della divisione perché in realtà si parla questo profluvio di articoli questa cosa che fa dire a qualcuno eccessivo è troppo too much la morte di Berlusconi è una grandissima occasione di riflessione su 30 anni di storia italiana cioè parliamo di lui per parlare di noi e per aprire una riflessione che deve essere approfondita e Berlusconi sulla divisione del paese in due mondi in due schieramenti anche antropologicamente diversi e nemici e ha costruito una importante fortuna e lui è la bandiera in qualche modo di questo bivolarismo muscolare che si è affermato in italia che rappresenta uno strappo rispetto a tutta la tradizione politica precedente italiana che era fondata su altre dinamiche ed è una stagione nella quale poi la sua erede diretta diventa Giorgia Meloni che fonda appunto il suo racconto sul noi e loro e questa è la divisione non è una categoria etica o morale mai come in questo caso è una categoria politica è stata la strada per il successo del centrodestra italiano che mantenendo la sua coalizione quasi sempre blindata senza consentire defezioni o salvo rarissimi periodi la ribellione di bossi eccetera è riuscita a costruire proprio un successo e una potenzialità di potere e una potenzialità di vittoria elettorale proprio sul noi e loro creando una barriera fra due mondi che l'italia prima non aveva mai conosciuto perché diciamo il dialogo tra i partiti era più mobile gli schieramenti erano più mobili e noi adesso viviamo in un mondo costruito su un bipolarismo che è stato Berlusconi a in qualche modo a inventarsi ea costruire nell'arco del tempo agnese pini ci si